Oggi viene ornata da suo figlio con un abito di eterna esultanza. Ecco, fratelli e sorelle, la bellezza di questo dono che il Signore ci fa, facendo della sua madre la nostra madre, la madre di tutti noi. Senza distinzioni, senza privilegi, tutti siamo figli di questa madre. E oggi allora è significativo il gesto che veniamo invitati a compiere. Oggi la Fraternità dei Frati Minori Cappuccini della provincia di Sant'Angelo e Padre Pio celebra una giornata di attenzione, di preghiera, di sacrifici, di rinunzie, di aiuti per le missioni che i Cappuccini hanno nel Chad. Una terra che io ho conosciuta tanti anni fa, devastata ancora oggi dalla miseria, dalla fame e dalla guerriglia. Allora siamo invitati a pregare per questi nostri fratelli che vengono privati e della libertà e a volte anche del pane e dell'acqua. Ricordo la fatica con cui tiravano dai pozzi improvvisati qualche po' di acqua per le necessarie, elementari necessità. E allora la nostra carità, la nostra preghiera va incontro a questa attesa, a questo bisogno. La terra il Signore l'ha data a tutti noi. Non ci sono alcuni che possono gustarla e goderla e altri che vengono esclusi. Tutti insieme dobbiamo sentire la terra come un dono da condividere e da partecipare. Ci aiuti anche in questo gesto di carità, la Vergine Santa, oggi celebrata da tutti noi dalla Chiesa, come assunta in cielo, in anima e corpo.